dai! mate! sorry! era one shot porca puttana e ho fatto head con lo scar, cioè è pieno di gente raga porco due! c'è un team qua eh, intero proprio! è stato uno o due volte no pure la dietro! una l'ho buttata a terra! vieni raga, vieni blu! ma a me mi hanno stuprato il culo sotto raga, erano un botto erano ma adesso ma perchè è picciato da solo dietro caos? non ci vedete! ma erano botto, come cazzo ha fatto a killarmi porca puttana! nooo! ma poi mi racconto due! ma una cosa raga, ma sotto quanti cazzo erano? che mi hanno stuprato il culo, mi spiegate? troppi! ho zero kill! parca puttana ho zero kill! pure io! beh a forza che finisci tutti qua! perchè ci siamo indivisi tutti, io sono restato sotto perchè con me potevamo muovere! dovevo andare con il rax, il rax è doveva stare con noi! finiscilo! chiedo! build up! ora ti prego, clash a caos! eh! arriva un altro! se mi pusciano tutti... no, devi andartene via! prendi l'aria e vattene via! devi andartene via caos, prendi l'aria! per forza! eh! prendi l'aria! prendi l'aria e te ne vai via! lascia il medic! te ne vai via! te ne vai in safe! che ti butti cosa succede? eh! prendi l'aria! prendi l'aria e te ne vai via! 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 eh! vai vai! buttati! 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 apri per la caduta! ma hai totem? vabbè! come è questa roba raga! no! finisio! super! tiro! tiro! attivo il medic! prendi l'aria e te ne vediamo! ladite! no! che si! si! no! non fai dare nessuno arriva in finale quando siete nove che fanno quattro contro quattro appena finisce il fight tu vuoi lì li clean up almeno ci provi ci provo se pusci tutti finisci fuori no no caos perchè ti metti tu è la non posso? no, lascia perdere no entri in safe vai 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 è un hub per carità ma vabbè sto duro voglio salvare te occhio c'è qualche a sparare con l'aereo? io stavo già sparato ultimo fai la scala fai la scala fai fake e poi scendi scendi vai scendi è notale stai giù stai giù stai giù forti lì vai sniperlo quello, non botti bro eh ma rischiate che lo snipero l'altro però orco due eeeh 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 prova caos andartene via la safe prendi una delle gemme eh la gemma diventi invisibile tipo tra passi muri caos caos prendi la gemma vai più veloce eh la prendo qua davanti mentre vado in safe eeeh eeeh ce n'è un altro ce n'è un altro che l'ha già presa ma non c'è proprio come si può no 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 premi il ruonare premi il tasto per sparare Dura così poco? Non durava così poco In parco giochi ah quello mica io è finito eh Voi la poteva andare avanti no no metti 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 fatti cazzi tuo fatti cazzi tuo fatti cazzi tuo Io sono uno che pusha e quello eh lo so ma se la voliamo colta vincere devi cari n'appa lui Zero kill cio Anche se la vince il KD, ma non cambia niente Prendo solo la win Prendi la win e non ti si abbassa Per il KD Eh speria, cioè sì No, ti si abbassa il kill per match, il KD no Il KD rimane lo stesso Se c'hai il 15 rimane il 15 Poi abbiamo fatto una cazzata A separarci tutti insieme Non dovevamo proprio andare al lago Dovamo starcene fuori Fregarci il cazzo di quello che succedeva No bro, non sono lì, no, fermate bro Prendi a me non dovevi farlo No, ma che bella Entra dentro la casa, casa chiudi C'è un'ora 50 da sopra E' un'ora 50 da sopra E' arrivato in finale praticamente Perché so 4 team 4 team Tu devi aspettare L'ultimo fight Fanno 4 contro 4 Qua non la voce Appena leggi che si iniziona terra ieri vanno addosso si fa i cazzi l'obbligatoriamente se vogliamo vincere se no rischi troppo bella mamma bella lupo come andata a scuola, bene io sono tornato all'una e mezza oh quando dite voi vado io vai 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 ma che dite il fallo me lo faccio ok siete quattro contro quattro e appena devi andare devi andare no dai orevo raga te prego aspetta 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 su quattro no ti ho visto uno ti stai a esporre troppo comunque secondo me no il problema è che se pusha se lo pusha no ha perso perchè so quattro ma a che ti serve l'argo scuola bro se trovo il lanciarazzi vabbè dai vabbè almeno io dovrei sta zitto che sono morto con zero what ce l'hai metallo bella bravo eh lo so ti devi posizionare ciao stanno usare ora aspetta in via perchè oh ascoltatemi ciao 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 mi fate parli un attimo sono quattro contro due e tu fatti i cazzi tuoi fagli fai dare quattro contro due appena hanno ferito di fai dare pusha esatto e non puoi quattro più uno così metti tutte trappole remi di trappole cammini trappole cammini trappole cammini trappole ma perchè sei io cosi stanno facendo ora jumpa 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 è lì, è lì, è lì, è lì è tu eh? è lì, è lì, è lì, è lì è andato via eh, è scusato sull'altro occhio oh, un arma! punta a quello, punta a quello, con la RPG quelli a scisa, quelli a scisa che sono di più eh tanto per ammire mi ha ritardato questo ok, faccio la metriaglietta carica la metriaglietta carica la metriaglietta carica la metriaglietta carica la metriaglietta ora, ora, ora ora, ora è ora bro è ora bravo, l'ultimo è sotto, l'ultimo è sotto finiscilo se puoi perchè sennò si resta non scende, non scende, ce l'hai oh ora vai, vai, è l'ultimo bro, buccialo no, no, c'è un altro c'è un altro, lo devi stare attento eh è mancano due, uno sta terra, regale, mancano due due, due ma a me se lo stanno a cura' quello eh, il compagno lo sta cura' faccio divi fattelo subito, fattelo subito bravo bravo sei uno, sei uno, sei due vai, pucia, stanno in là, dove eri prima è one hit una è one hit quello che hai atterrato prima eh te lo puoi fa vai ho finito i materiali bello sta quello che sta per terra dove vai allora eccolo sta per terra questo, sta qua giù, sta qua giù lo vedi? tuo oh bravo, bravo, giocatela sali su, sali su, devi prendere il ground sali su e poi carichi tutto sali su dai in altezza hai vinto che sta giocando benissimo sto ragazzo vai vai avanza avanza in safe oh caldo sei poco forte comunque vai, prendi un padre alle giù se ti serve eh, sotto di te, sotto di te occhio eh, ti sali su 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 sali fermo rimani così, rimani così, non serve ahah è un bot è un bot, è un bot è un bot che sta appena comprato a passo ti immagini dai doppio, doppio no, risali risali, risali caos non fa un caos però eh dai campare non vuoi avere un caos dobbio ah no caos non la trollare bro no bro, lascia verde, ci tiro, lascia verde bro è bianco, è bianco, dai un colpo di pompa e muore eh un colpo di pompa e muore vai no togli 10, togli 10, attento è bianchissimo, un colpo di pompa e muore spacca, spacca tutta questa roba è tua eh si pompa, pompa, pompa vai pompa bro, ma ti salva riga bro a nab, buccia cioè che fare? eh ma per quello dico la safe eh, la safe, leva tanto aspetta, fallo camminare con la safe no no, la safe è dietro, la safe è dietro non ti devi muovere, non ti devi muovere buono buono senza appena si muove, per la safe una bombata in testa e via, è bianco vai, vai, prendi pompa prendi pompa, mentre c'è chi non lo devi usare pompa, pompa, pompa tanto perchè è bianco, un colpo di pompa del lì vi fa 50 da questa distanza e muore fermo eh, fermo hai visto? è tuo bravo oh grande Chaos cravo bravo Re astron ecco raga il primo game della sipo 6 è stato a tutta dice raga Raga nicos mi mi hai salvato oh restituente cerco che? mentre noi der raga ma chi è il rapper? sentate un attimo, Chaos uuuu oddio che bello l'ombrello si chi ma tutto l'ombrello di spiderman Chaos come ti chiami su youtube e dopo questo te devo seguire Darkhouse92 oh cazzo tanto duro Darkhouse92 oh il cazzo tanto duro vada che problemi hai dai oh telegram Darkhouse92 like iscriviti grazie 9000 iscriviti fai metti il microfono ciao 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 ciao